Ora il nono universo dovrà essere distrutto! Oh sì! Ha perso tutti i suoi combattenti! Sì, i suoi guerrieri sono tutti usciti dal ring! Per loro la disfatta è totale! Di conseguenza, sarà il nono universo il primo a essere eliminato! Uno, due, via! Sì, i guerrieri del decimo universo sono tutti fuori! La loro sconfitta è definitiva! Da regolamento, quindi, il decimo universo verrà completamente cancellato! Tranquillo, Bune! So che ce l'hai messa tutta! Uno, due, via! Di conseguenza, il secondo universo e il sesto universo saranno completamente cancellati! Uno, due! Sappiate che vi siete comportati benissimo! Ci avete mostrato la brillante meraviglia dell'amore! Ciao! Ehi, fratello! Maestro Vegeta, ti auguro buona fortuna! Oh, vi prego, non voglio scomparire! Non permetterò che accada! E poi perché dobbiamo scomparire? Io questo non lo accetto! Non lo accetto! Se devo andarmene, mi porterò via con me tutti quanti voi! Un, due, via! Il quarto universo è stato annientato! Un, due, via! I guerrieri del terzo universo sono usciti dal ring! In gara non ne resta più nessuno! Quindi, da regolamento, ora il terzo universo verrà annientato all'istante! Un, due, via! Dobbiamo accettare il nostro destino serenamente, senza alcun rimpianto! Eh? Eh? Eh, 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 eh! Grazie per tutto quanto! Addio! Via! Beh, meglio tardi che mai! Jiren! Ti ringrazio! Mi ringrazio? Ma come? Sei in battaglia per non rinnegare me stesso! Ho rinnegato tutti voi! Ascolta, non lo sappiamo, il torneo del potere è appena terminato, ma la mia voglia di combattere è ancora la stessa! Forse non sarai d'accordo con me, eppure durante il nostro scontro siamo diventati sempre più forti, e l'abbiamo fatto insieme! Spero di incontrarti ancora! 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 Grazie a tutti.